In un casale immerso nel verde La dottoressa Giordi ha aperto un ambulatorio veterinario Ah ma hai fatto un controllo per i parassiti? L'hai vista anche tanto dimagrita? Eccoci Qui insieme ad alcuni specialisti si prende cura ogni giorno di tantissimi animali Aspetta tre bei cincilla E insieme ai volontari Giordi aiuta tanti amici a quattro zampe a trovare una casa È bellissima Ma come in ogni casale che si rispetti c'è anche un tuttofare, Rulof Oggi usiamo un po' di magia per tagliarlo eh Uno youtuber, tuttofare Sei bellissimo Rulof Siete pronti a vivere grandi emozioni e a imparare sempre cose nuove sulla natura e gli animali? L'allegra famiglia del casale vi aspetta Solo su Team Vision Sai che c'è? Sieni qua in se... Io torno subito eh Rulof Siete pronti a vivere grandi emozioni e a passare la natura e gli animali? Che c'è? Se chi è vero... Siete pronti a vivere... Siete pronti a vivere grandi emozioni e la natura e il suo lavoro? Grazie a tutti.